Questo libro nasce dalla relazione introduttiva ad un corso di formazione che io ho voluto promuovere all'interno della nostra azienda di Aboka per condividere con tutte le persone che ne fanno parte i valori e i presupposti di base che sono alla radice del nostro essere impresa, sia in termini del perché siamo un'impresa, sia di quelle che possono essere invece le modalità di gestione viste in una dimensione nuova, diversa, perché costruita attraverso un parallelo fra l'organizzazione sociale a cui si riconduce l'impresa e l'intelligenza della natura, il concetto di visione sistemica che nel libro viene approfondito nei primi capitoli grazie anche all'insegnamento di Frisiof Capra che è uno dei punti di riferimento di tutta l'opera, la quale poi si snoda e per questo mi auguro che possa essere di interesse per un pubblico direi vasto, non solo imprenditori ma anche persone che quotidianamente al lavoro si chiedono perché sono qui, che cosa ci sto a fare e un po' questo è il punto di partenza quando si approfondisce un'organizzazione sociale, quale ne è il significato che poi è anche il confine della sua identità e dall'identità si arriva poi a come gestire un sistema vivente, questo è il titolo, l'impresa come sistema vivente all'interno del quale si trovano persone e dove le logiche, come si vede all'interno del libro, devono cambiare profondamente, non è più una lotta di tutti contro tutti, bensì una rete che si costruisce attorno a dei valori comuni e attorno a questi si snoda attraverso modalità di gestione ispirate a una visione dei processi, al concetto per cui le persone non possono essere solo comandate ma devono essere coinvolte in un percorso per poi chiudere con quello che io ritengo sia fondamentale, cioè un'evoluzione dell'impresa in cui i valori non restano più affidati a un imprenditore illuminato o una famiglia ma diventano costitutivi, entrano negli statuti, così che l'impresa del tema delle società benefit diventa motore positivo del cambiamento. Ecco questo è un po' il contenuto di questo libro, io ho scelto di pubblicarlo anche se in realtà nasce come ho detto come riflessione verso l'interno perché se il leggerlo potrà stimolare nel lettore la voglia di vedere nell'impresa non solo uno strumento economico ma anzi soprattutto un luogo dove realizzare se stessi e contribuire al bene comune allora vorrà dire che avrò raggiunto il mio obiettivo. Grazie per la visione! Grazie per la visione!